Juve, Allegri e Spelle Chiesa, Gnonto o Zagnolo e possibili sostituti. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. La conferma di Max Allegri, impiantata nella vostra banca dalle parole del Digi Scanavino, in qualche modo si paga. Nei giorni scorsi, infatti, sono molti i giocatori della Juventus che hanno informalmente dimostrato la loro volontà di cambiare aria. Dusan Vlaovic è noto da tempo, quindi il nuovo nome è quello di Federico Chiesa, ovviamente posto molto bene nella lista dei malcontenti. Bianconeri e ammiratori in Premier League, è seguito da vicino dal Bayern Monaco e quindi ha preso sul serio guardarsi intorno. Due le ragioni che potrebbero convincerlo a lasciare la Juve, la mancanza della fase di Champions League e la sensazione di non godere di come vorrebbe la fiducia di Allegri che, da quando l'ex fiorentina è rientrata dall'infortunio, ha usato con il contagocce. Chiesa non sta al centro del progetto e tutti in ogni Juve hanno qualche dubbio sulla sua prestazione atletica e sulla sua adattabilità tattica al gioco di Max, ergo, in presenza di un'offerta significativa, diciamo circa 40 milioni, sacrificio non sarebbe così difficile da digerire. Sì, ma da dove vengono questi soldi? Ad esempio, da Newcastle si è qualificato molto bene in Champions League e con un progetto di crescita molto importante. Liverpool sembra anche essere attratto dalla possibilità di portarlo in Inghilterra, come Tuchel sembra affascinato dall'idea di averlo a disposizione nel suo nuovo Bayern. Al momento si tratta di ricerca, niente di più, ma qualcosa si muove tanto che la Juventus stessa ha trovato nelle ultime ore gli agenti di Nonto e Zaniolo a chiedere informazioni. Che cosa, è facile da capire, significa valutare le possibili alternative alla Chiesa. Ci sarà poi da capire cosa fare nell'attacco, perché il salvataggio di Milik da Marsiglia sembra essere escluso, il Lazio vorrebbe il polacco, NDR, che Vlaovic, come ha detto, potrebbe lasciare la continassa. Inutile dire che, in questo caso, vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.